strada per combattere il terrorismo. Esprimo innanzitutto il massimo cordoglio da parte di tutto il Movimento 5 Stelle nei confronti dei familiari delle vittime e di tutto il popolo francese colpito in un giorno di festa nazionale. Il Movimento 5 Stelle chiede in questo momento un serio dibattito, è il momento che la politica si fermi e faccia un serio confronto su quelli che sono i temi della sicurezza e della lotta al terrorismo.